Longevità, media tradizionali, megalomania dei miliardari, vantaggio opposizionale, non so, c'è queste robe in testa in questi giorni, però alla fine dei conti non è che finiscono dentro un video, sono solo così delle riflessioni che faccio tra me e me ad alta voce. E ho pensato, sai cosa, a volte raccolgo una specie di ratatouille, un po' un calderone di pensieri destrutturati, su cui anch'io sto cercando di formarmi un'opinione, non ho una linea già certa da dire, ah guarda faccio un video su questo perché ho studiato, no no, sono riflessioni ad alta voce, sono argomenti che però magari possono essere interessanti anche per te, magari anche tu fai gli stessi pensieri, ecco. E' un modo per cercare dei simili là fuori, ci siamo, non siamo soli. E forse anche questo è uno dei motivi per cui uno finisce a fare dei video, no, perché vuoi vedere se ci sono persone che la pensano come te, in un qualche modo, o sei l'unico pirla che ha un certo tipo di curiosità, un certo tipo di approccio. A proposito di essere l'unico pirla, l'altro ieri, o tre giorni fa, l'altro ieri, camminavamo per strada con famiglia, a un certo punto qui a Brighton incrociamo, in Inghilterra, incrociamo un tizio che aveva una gallina sulla spalla. E lui camminava con la gallina sulla spalla. La cosa incredibile di questa città dove vivo ormai da 12-13 anni è che da un lato nessuno se lo filava, ok? Quindi questa era la prima considerazione. Ah, c'è la gallina sulla spalla. Good for you. Altra cosa è che mentre il tizio con la gallina sulla spalla camminava, è passato per una stradina dove c'è The Singing Barber, che è un parrucchiere, era un parrucchiere che canta. Si mette sul suo balconcino e una volta alla settimana canta. Era lì che cantava la sua canzocina. Quindi in questa atmosfera surreale brightoniana, tu ti immergi. E se sei una persona, come mi sono sempre sentito io, non conforme, ecco, che arrivi in questa situazione chiamata esistenza, e vedi tutte queste scatole che ti vengono proposte, categoria 1, imprenditore, categoria 2, avvocato, categoria 3. E dici, no, ma io non mi ci ritrovo. Non riesco a trovare la mia scatola, beh, lì non so quale sia la mia scatola. E voglio magari cambiare scatola di tanto in tanto, mischiare più scatole, uscire dalla scatola, stare sopra la scatola. Non so imbeddarmi la scatola. Che scatola, ecco. Allora, questa cosa mi piace molto di Brighton, perché non ti senti giudicato. Ecco, tu puoi essere quello che vuoi, ti esprimi nei rispetti della legge, quindi non è che ci sono dei pazzi fuori di testa serial killer. Cioè, il posto normale di gente che però non è mai normale, secondo le logiche tradizionali. Invece, in altri posti, Milano, che era la mia città, insomma, dove sono stato tanti anni, sono sempre sentito molto giudicato. Magari non è un giudizio perché le persone, noi milanesi, siamo dei bastardi, ma semplicemente perché è una società costruita così, che ha tutta una serie di valori, che ti giudica se hai soldi, se sei potente, se hai il lavoro di un certo tipo. E quindi questa cosa è molto fastidiosa, l'ho sempre trovata molto fastidiosa per me. Mentre invece ho persone che stanno benissimo in quel contesto, ecco, e dicono, come fai a vivere a Brighton, che è una città, che la guardi e dici, mamma mia che brutta sta città, è brutta la città, devo dire che è brutta. E spesso piove, però vabbè, oggi c'è il sole, ecco, ecco oggi c'è il sole. Però questo carattere non giudicante a me piace, e quindi questa era una riflessione. Detto questo, longevità, stavano giocando sulla longevità, perché sono un po' di anni che sono dietro a questo tema, in inglese è la longevity, è un'enorme industria che sta crescendo sempre di più. E io sono un po' di anni che ci sono dietro, per pura curiosità, un po' curiosità anagrafica, perché ho 51 anni, quest'anno ne faccio 52, per cui mi sa che perderò anche i capelli, prima o poi non so cosa succede. La cosa che mi colpisce è che ho intervistato diverse persone, negli anni, da David Sinclair a Longo, gli esperti della longevità, quelli che stanno a Parma, non mi ricordo mai il nome, Camillo Ricordi, sono diverse persone, ma soprattutto io che sono curioso di carattere e smanetto, quando mi piace smanettare i gadget tecnologici, tutte queste menate qua in continuazione, tutte queste robe qua, mi sono negli anni impallinato su vari gadget tecnologici, per cui mi ricordo quando uscì l'UraRing, che era un anello che ai tempi non si usava, è solo una roba un po' da nerd, mi ero subito preso l'UraRing per vedere come dormi, poi i tuoi parametri vitali, queste robe qua, poi adesso direi abbastanza diventato mainstream, di grande scala, questo tipo di aggeggio, e poi negli anni ho preso un sacco di roba e ho testato un sacco di roba, non so, stavo pensando di recente cosa sto testando, sto testando, ah scusa, quella roba che ti dico adesso, UraRing incluso, non ho nessun rapporto, non ho una filiazione, non ho interesse a vendere niente, cioè non comprarlo, non comprare niente di quello che ti dico, ti dico solo dei nomi, così sai a cosa faccio riferimento, se no devo dire ecco avevo preso un anello che è fatto così e poi mi dice ma qual è il nome dell'anello? Ok quindi chiariamo subito sta roba, non comprare la roba che segnalo, non è un endorsement, non ho nulla a che fare, non c'è un link in descrizione, niente di niente, ok? Facciamo delle riflessioni, ecco una volta vuole semplicemente riflettere, come se parli a un amico o un'amica e ti dico guarda io sto facendo questo, boh non so se sia giusto o sbagliato, sono solo riflessioni ad alta voce, e sto provando ultimamente Eight Sleep, l'aggeggio che metti sul letto, è una specie di cover del letto, una copertina del letto, che ti fa una misurazione del sonno, il battito cardiaco e altre robe, sto provando, ho provato in realtà adesso ho smesso di usarlo, questo Actia, Actia, H-K-T-I-I-A, che è una roba per misurare la pressione sanguigna, non che avessi nessun tipo di problema, però sono curioso di vedere se funzionava o meno, quindi ho provato a usare quello per un paio di mesi, credo, e in più l'ultimo mese ho anche usato un misuratore normale, tradizionale, per vedere se i dati erano corrispondenti, simili, poi ho dei vari cosi, band, no, per misurare quanti passi fai, queste manate qua, red light, rappresenta la luce rossa, dovrebbe avere degli effetti fantascientifici meravigliosi, insomma, ogni due minuti provo queste cagate qua, cagate o non cagate, perché questo è il concetto, è un'industria in enorme evoluzione, che da un lato vede enormi investimenti, enormi interessi, perché non sono solo i Brian Johnson di turno, o i mega miliardari che vogliono vivere in eterno. C'è anche chi dice, ma io, per dire, ho 52 anni, vorrei che quando ho 80 anni magari gioco ancora a tennis, non è che voglio essere proprio decrepito, no, quindi c'è un'idea di dire come faccio a vivere in modo salutare, stare bene, anche quando poi imbecchi, no, cioè quindi cercare di avere delle buone abitudini per far sì che non fai degli anni di inferno, che sei lì che non puoi più fare niente, quindi questo è un po' il concetto. Poi lo so che dici, vabbè, Monti, ma tanto tu, giocando a scacchi, vado sul lungomare di Brighton, gioco a scacchi, sto fermo lì tutto il giorno, testa finita. Però, se il cervello non funziona più, anche gli scacchi sono problematici, quindi cerchi in un qualche modo, per un motivo anagrafico, se sei interessato a quegli argomenti, mi interessano quegli argomenti, anche perché c'è molta tecnologia spesso, e per questo sono curioso di vedere cosa succede. E l'idea che mi sono fatto è questa qua. Te la dico, te la dico. Trend pazzesco, che avrà una crescita esponenziale. Lati positivi sono che, se ha ragione Kurzweil e un po' di altri tizi, avremo questo punto di cosiddetta escape velocity. Ci sono tanti termini inglesi, lo sappiamo, e tutte le persone che si lamentano del fatto che nei video ci sono termini inglesi, quando è un video in italiano, dovrebbero fermarsi un secondo, prima a studiare l'inglese, e secondo a capire che, se tu vivi in Inghilterra, parli inglese, quindi ti vengono termini inglesi, ma poi tutto il mondo della tecnologia gira inevitabilmente intorno a termini inglesi, per cui nasce tutto da lì. La traduzione a volte non ha neanche senso, come anche nella finanza decide. Infatti il budget, come lo traduco? Budget? Non lo so budget. Il piano finanziario, non lo so, però è importante avere anche questa apertura mentale, non essere così rigidi, quando si ragiona su, o si analizza, o si critica. Ma detto questo, grande esplosione, queste escape velocity dovrebbero arrivare, cioè a un punto in cui arrivi ad avere la possibilità di, ogni anno che vivi, aggiungere più tempo, no? Cioè sei in grado, hai una tecnologia, delle medicine, delle risorse, degli strumenti tali, che ti permettono di avere veramente un effetto anti-aging, no? Cioè di ringiovanire, un pochino alla volta, no? Così. Per cui è interessante, ovviamente parte tutto dalla considerazione che tu devi essere soddisfatto e contento della vita, ciò che fai, perché sennò immaginati vivere in eterno una vita di merda. Non so se sia geniale, e per cui a volte persone non ci pensano, però questo mi sembra la prima considerazione. L'altra cosa che noto di tutti questi gadget è che c'è veramente un'esplosione, adesso c'è un altro, Nourished, Nourished, che sono quelli che fanno la stampa 3D degli alimenti, no? Per avere l'alimentazione più personalizzata, roba e cose, ma ce n'è 3.000 di questi qua. La cosa che mi colpisce però è che enormi potenzialità, alcuni strumenti sono senz'altro promettenti, interessanti, però ci sono ancora delle cadute logiche di buonsenso che a volte mi fanno riflettere. Ad esempio, l'aggegio che uso per dormire, che tra l'altro ha un fan, se non sbaglio, italiano, molto bravi anche a creare prodotti, eccetera, ottima esperienza d'uso anche quando non installi. Però, la mia dolce metà ha definito questo aggegio come dormire con un server nella stanza e tu dici, effettivamente, se devi dormire non puoi avere una roba che fa rumore se anche pochino non c'è la ventolina o senti l'acqua, perché alla fine dei conti cambia la temperatura del letto, però per cambiare la temperatura l'acqua si deve muovere in un qualche modo, non è che può essere totalmente che non si sente niente e quindi tu c'hai rumori e per cui io mi sveglio a volte che c'è il rumore, però c'è la lucetta, la luce dormire luce non va bene insieme. E qui ci sono secondo me ancora delle così cadute su su dei temi che dovrebbero essere già risolti. è un po' come quelli che cercano di avere l'app per rilassarsi e poi si nervosiscono sempre di più perché sono sempre a guardare l'app o se a misurare in continuazione dormo bene o dormo male? Ho dormito male, arca miseria! c'è questa angoscia che ti arriva dalla continua misurazione che è un altro aspetto però detto questo ci sono pro e contro vedo oggettivamente uno sviluppo enorme e molto veloce perché segue tutto quello che vediamo sui contenuti di intelligenza artificiale queste robe qua studio del DNA costi sempre più ridotti e questo è un mix pazzesco che andrà a nostro vantaggio andrà a nostro vantaggio perché ci sarà una democratizzazione sempre di più anche di strumenti di misurazione diagnostica prevenzione veramente veramente un mondo che si apre molto interessante ti trovo aggiornato insomma se trovo qualche cosa che dico wow questa è una piccata pazzesca fino ad ora ecco una delle cose che costa di meno è questo aggeggio qua per misurare la CO2 non so se funziona o meno però la misura è un po' salita e io cosa faccio alla fine serve non serve ma chi lo sa qualcosa servirà noi tutti questi aggeggi nella maggior parte dei casi devo dire ho buttato via un sacco di soldi negli anni di gadget totalmente inutili che sono qua ho un cimitero di gadget di qualunque tipo che pensavo fossero la soluzione ai problemi del mondo e poi non l'ho ho scoperto che non era così ho anche preso uno a un certo punto non so forse era per allungare il collo come la pompetta lo mette vinto facendo la pompetta questo ho provato due volte ho detto senti vai l'allungamento del collo così non passa non passa però devo dire sono anche bravo in queste cose nel senso che quando vedo che una roba non funziona magari non funziona per me magari a te ti funziona l'allungamento del collo va bene funziona e allora mi fermo e dico aspetta passo su questo passo per cui non è che sono il nuovo per il nuovo il gadget per il gadget sono sempre molto cinico e critico rispetto agli strumenti dall'altro lato a volte se c'è una roba che funziona capito diciamo questa roba funziona a quel punto sei ben contento next cosa ho visto in questa settimana negli ultimi giorni una cosa che mi ha fatto riflettere è stata l'intervista di Don Lemon a Elon Musk questo intervistatore ex CNN ha intervistato Elon Musk e ti dico come l'ho vissuta hanno fatto questa intervista che è andata per il verso sbagliato molto velocemente l'intervistatore intervistatore diciamo classico da giornalismo tradizionale che adesso si mette a fare un contenuto sui social e interviste Elon Musk con questo approccio molto da interrogatorio domande a raffica dammi la risposta bla 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 cercando come dire di trovare no quel momento scoop che cercano tutti i giornalisti e quindi questo era un po' diciamo la sensazione di quell'intervista e dall'altro lato vedi Elon Musk che dopo un po' si scazza e dice ascolta guarda come dire non c'è tempo da perdere inizia anche a rispondere un po' così senza senza troppo interesse quindi ho visto questa prima intervista e l'idea che mi sono fatta è stato ma questo intervistatore è un po' mezzo coglione e Elon ha ragione questo era un po' il mio approccio poi però mi sono fermato un attimo ho pensato perché devo fare l'errore che fa la maggior parte delle persone che è quello di fare una valutazione così su una clip sull'interesse lo è statuta però spesso tu vedi una clip noi viviamo in questa era del short form contentismo dove hai questi contenuti brevi che dominano con questa titocchizzazione che ci ha rovinati completamente dei contenuti che ti danno l'impressione di sapere un argomento quando invece non ne sai niente ti danno l'impressione in 20 secondi di rivelarti la verità per diventare ricco famoso bellissimo col capello lungo ingellato ma non è così e allora sono andato a vedermi il contraltare cioè ho pensato fammi capire questo intervistatore chi è così e sentiamo la sua versione io ho visto mi sono fatto un'idea ma sentiamo la sua versione e ho visto una chiacchierata che ha fatto tipo un paio di giorni dopo con Cara Swisher Cara Swisher è una storica giornalista tech americana era quella che faceva Ricode ti ricordi la conferenza ha intervistato Steve Jobs la mamma di Goldrick veramente sono passati tutti ed è sempre stata nota per il suo carattere molto come dire straight to the point dritta al punto non giriamoci intorno cosa mi racconti non raccontarmi era una molto secca secca diretta ecco molto competente grande esperienza e ha fatto una chiacchierata e parlavano delle interviste sono amici e parlano dell'intervista e vi sono fatto come dire un'idea diversa sia dell'interlocutore che come dire è un interlocutore che ha una sua competenza una sua preparazione passa da un media tradizionale a mettersi sui social e quindi anche alla fine della chiacchierata era un po' un'imbarazzo e chiedeva ma come si fa adesso è proprio diverso lei gli dava un po' di consigli come si muove quando non hai più un editore che ti prepara tutta la papà pronta ma sei tu che devi gestirti il media e quindi sotto anche la parte economica come fa a stare in piedi la produzione eccetera eccetera però in generale mi sono fatto un'idea differente rispetto alla prima che mi ero fatto quindi l'ho trovato come dire un intervistatore come ce ne sono mille altri ha giustificato alcune domande che faceva dal suo punto di vista perché ho fatto certe domande perché mi sono impuntato su altre cose quindi penso che sia importante questo voglio farlo più spesso perché tu vedi il bene e il male di ogni persona quindi Elon vedi uno che da un lato è super intelligente super fenomeno fa delle robe pazzesche dall'altro lato vedi questa chiara tendenza a non ascoltare neanche più quando gli fanno delle domande un po' magari perché è stufo perché gli chiedono sempre le stesse cose perché non gli piacciono i media tradizionali che lo attaccano è un po' perché sei l'uomo più ricco del mondo le sai tutte tu c'è intorno solo persone che ti dicono che sei un genio e a quel punto ti comporti come se il tuo tempo fosse molto più importante del tempo di tutti gli altri devo salvare l'umanità e quindi non c'ho mica tempo per queste cagate e questo non ti porta in una buona direzione in generale ti apre questa megalomania inevitabile perché poi a quel punto pensi che non puoi più sbagliare e poi fai dei danni veri a te stesso a te stesso non so di cieco d'ora in poi se bevo il diesel due litri di diesel al giorno vivo 300 anni e crepa il giorno dopo quindi ci sono queste complicazioni qua e dall'altro lato è evidente che il giornalismo tradizionale ha delle raccune clamorose e infatti io i giornali veramente faccio fatica a leggere qualche cosa ecco da tanti anni cerco di andare direttamente dall'esperto che ne sa qualcosa che posta il suo blog sui video e vado direttamente lì no cioè perché devo andare tramite un media tradizionale che ha una sua agenda i suoi investitori ha la sua visione politica porta avanti un certo tipo di di punto di vista schierato no e dici no vado direttamente le informazioni io me le prendo diversamente quindi c'è questo mondo dei miei tradizionali che è orrendo in generale e poi cavalca ancora di più adesso l'onda dello sloganismo è tutto breve no contenuto breve bam 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 ed altro problema la difficoltà che hanno secondo me molti giornalisti tradizionali è che siccome i tempi sono diversi sui social tu devi avere delle conversazioni diverse non puoi avere l'approccio tipo abbiamo 20 minuti di programma ma io a Sky T24 ho il mio programmino ridicolo che erano 21 minuti e in 21 minuti vanno via veloci sono tanti per la televisione però sono pochissimi per avere una conversazione perché hai tre servizi dentro l'ospite aspetta l'inserto cioè ogni domanda parli un minuto e mezzo e quindi il giornalista tradizionale è abituato a quella logica lì perché c'era un vuoto temporale non avevi il tempo e allora dovevi condensare tutto la mia risposta dai che poi devo fare il titolo con quella risposta lì che sia la più scupposa possibile qua invece sui social cambia la situazione ed è il motivo per cui queste conversazioni anche lunghe hanno grande successo perché hai una parte di pubblico che invece dice no ma sentiamo veramente come ragiona una persona cosa pensa e poi mi formano la mia opinione e in un modo diverso anche di approcciare però ecco tenere lo ripetiamo sempre due opinioni contrastanti nella testa è una cosa difficile quindi io in questo momento Elon Musk lo vedo chiaramente nei suoi pro e nei suoi contro e questo torna utile anche quando si parla intelligenza artificiale che ci sono sempre apocalittici integrati beh insomma da un lato devi sapere quali sono i pro e dall'altro devi sapere quali sono i contro però per farlo devi comunque entrare nel merito e le persone non entrano nel merito in generale guardi i commenti sui social la gente non entra mai nel merito è una roba è cavolosa ma un minimo entriamo un minimo nel merito ed è l'orreo che faccio anch'io questo spessissimo ti fermi al primo impatto anche il primo impatto mi sta simpatico mi sta antipatico sono invidioso non sono invidioso ognuno di noi ha delle reazioni emotive diverse rispetto a quello che vede per cui questo insomma ho fatto riflettere da sé queste erano le mie considerazioni di questi giorni ovviamente la macro considerazione sono gli scacchi lo sto cercando di migliorare e forse la lezione più interessante che ho visto in questi giorni scacchisticamente parlando è il vantaggio posizionale mi piace molto il concetto di avere una posizione dove sacrifichi anche dei pezzi però poi sei in una posizione tale che il tuo avversario ci avrà anche più pezzi se lo sa lui se lo sa tutto lui però i suoi pezzi sono fermi non si può muovere e io invece sono nella posizione giusta ma a quel punto lo ha due no e mi piace molto questo questo concetto perché c'è poi sul lavoro c'è sempre questo questo concetto di riuscire a a trovare quello che è giusto per te ecco qual è la posizione giusta per te non per gli altri ma per te quello che piace a te fare quello che ti fa stare bene non quello che interessa agli altri ti faccio un altro esempio stupido l'altro giorno stavo facendo una chiamata con il mio gruppo di Crazy Fury che ancora esiste la gente pensa che noi due anni tre non so siamo ancora lì a fare ogni mese facciamo la nostra call non mi ricordo chi diciamo perché non vai in televisione ho smesso di andare in radio così e quello che così cercavo di spiegare in modo semplice ho visto c'era uno stupore ecco davanti a queste risposte che io non cerco visibilità non mi interessa cambiare la situazione che ho cioè so che cosa mi fa stare bene so quali sono le mie abitudini so le cose che mi piacciono i miei piccoli hobby la mia famiglia le mie cose la mia dimensione ce l'ho ben presente ripeto forse perché ho l'età di didattere quindi so la mia la mia posizione il mio vantaggio posizionale qual è certo potrei avere molti più soldi molta più fama molta più non lo so che cosa molti più capelli dicono alcuni adesso con la longevit ce n'è di tecnologie per la ricerca dei capelli ma io non le userò sto bene così anche lì sto bene così quindi perché dovrei cambiare non mi interessa andare in televisione fare programma andare in radio fare interviste non c'è niente da dire non mi distrae da quello che invece mi fa stare bene quello che voglio fare e questa è una cosa che magari da ragazzino non avrei avuto come approccio perché dici mi hanno chiamato per andare non so su Rai 1 su Rai 1 lo so a CNN BBC tu prendi e vai con questa cosa che poi chissà cosa succede non succede niente o meglio succede qualcosa ma magari non succede quello che interessa a te per cui tu una volta che hai capito quello che ti fa star bene that's it si tratta solo di fare di più di quello non di fermarti e dire no aspetta adesso mi metto anche andare ospite a tutti i miliardi di podcast che mi chiamano per intervistarmi per cercare di aggrapparsi avere più non so follower più views oh zero se ti piace fallo a me non gli interessa ecco e quindi se tu stai bene in questa dimensione aiuta sempre ed è un vantaggio una volta che sei in quella posizione lì poi puoi fare più facilmente scacco ma chiudere così cercavo la chiusa da 4 minuti non sapevo com'è e l'ho presa qua matto finale ci vediamo alla prossima